Sono Alessia Zecchini, campionessa del mondo di apnea e sono un'atleta. Il mio rapporto con i fan è molto bello, nonostante le mie gare si svolgono sempre in posti molto lontani, perciò è un rapporto a distanza. Infatti mi seguono sui social e tutti i loro messaggi comunque di incitamento e di auguri per complimentarsi, è veramente bellissimo e io sempre ringrazio di tutti, ovviamente come loro, mi mancano magari anche i miei genitori o il mio ragazzo perché appunto è tutto un po' a distanza, però la vicinanza e l'amore che mi mostrano comunque mi aiuta a dare il massimo e a essere felici anche per loro. Per battere un record è già mio, diciamo che l'ho fatto, l'ultimo record di Free Merchant, ma perché avevo appunto l'obiettivo che erano i 100 metri, perciò era quello che mi dava lo stimo, se no sicuramente battere un record di un altro atleta è più stimolante e ti dà un po' la carica in più. Diciamo che durante la vita quotidiana, il momento in cui mi verrebbe tantissima voglia di essere al mare, di tuffarmi sott'acqua, al calduccio, sicuramente durante l'inverno in mezzo al traffico romano, sicuramente la cosa che desidererei di più è scappare al mare in qualche posto caldo e rilassarmi. Se dovessi spiegare un po' cosa è il mio sport e volessi invogliare qualcuno a praticarlo, direi sicuramente di andare al mare e mettersi una maschera e semplicemente un boccaglio, provare a respirare, a guardare cosa c'è là sotto. Sicuramente quello sarebbe l'inizio che mi verrà sicuramente la voglia di scoprire anche cosa si trova, magari trattenendo il respiro e stare un po' più vicino, a contatto con quel mondo sommerso che molti non conoscono e che è veramente spettacolare. E poi l'apnea pian piano riesce ad insegnarti anche come respirare, come conoscerti meglio, perciò inizierebbe una scoperta veramente verso qualcosa che è spettacolare, che ti fa capire molto di più chi sei.